Ora penserete che io stia per dire un'altra cazzata, ma per la prima volta sento di potermi mostrare per quello che sono. Ho iniziato a farlo per gioco, come se fosse un attore chiamato a interpretare il mio ruolo. Ho incominciato a recitare la parte di me stesso, senza mentire, senza bugie. Guardate che non è un ruolo semplice, come non è semplice interpretare se stessi. Per me sarebbe più facile essere una qualsiasi altra persona al di fuori di me, una persona più sicura, più spavalda, con storie fantastiche da raccontare e non un coglione che va in analisi. Questo ruolo che non mi piace, di cui mi vergogno, ma sono io, è la mia parte. E ho accettato la sfida di riuscire ad essere me stesso.